Ed eccoci con Faire Solitaire Faire Solitario Fattato Un giochino di carte, classico giochino di carte Però in cui il nostro scopo è liberare ste fattine Ste cazzo di fattine inutili Come funziona? Come qualunque altro gioco di carte, di solitari In cui però dobbiamo per proseguire di livello Andare avanti, cioè sbloccare alcuni piccoli obiettivi Che ci danno di livello in livello Tipo qua, questo qua l'ho già fatto Mi pare che era quello di fare due volte perfetto Cioè sbloccare tutte le carte per almeno due livelli Il nostro compito è riempire questo coso quassù Cacchio non so cosa è Comunque, facciamo vedere una partitina Tanto classico, solitario, non c'è da spiegare più di tanto Allora così Nove Ah 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 Torniamo dieci Niente Cinque Quattro tre Quattro cinque Sei Ottimo, sto facendo la combo Non c'è qui niente Combo Ok Otto, 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 niente Due Rà Avanti, nove Facciamo questo otto qua Sette per culo Otto Cinque Sei Un belino Cioè dire questa puoi dire la giocata di merda E di poco Ehm Non riusciamo manco a superare il livello ottimo Cioè la giocata di merda Ah no, si riuscite comunque a finirla Ah no, devo Ehm Riempi la barra viola Ok, quindi su un altro Riempi la barra viola in meno di tre minuti Non ce la faremo mai Non ce la faremo mai Scusami sbrigarci Tre 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 Niente Cin 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 Quattro Tre Vediamo qua il tutto Dieci Jack Donna E basta Nove Niente Rà Asso 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 Basta Andiamo avanti Otto Niente Rà Passo Ok Forse ce la facciamo Forse abbiamo un culo Dai Sfigati Ok Andiamo forse ce l'abbiamo fatta Eh Ho scoccato? Sì Ce l'abbiamo fatta Ok Andiamo di arrivare in fondo a questo livello Ah 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 Quattro Cinque Sei Cinque Sei Cinque 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 Asso Eh 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 Re Donna Jack Donna Re Sei Sette Otto Nove Jack Cosa faccio ora? Cosa faccio ora? No Vivero il dieci Ok Ok Ah vabbè Cosa faccio? Mmmh Vai Cinque Quattro Tre Due Asso 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 Bene Quindi questo è il classico gioco modalità avventura Adesso proviamo un challenge, una sfida Non ho fatta avanti un po' No Get a combo of the off list Ok, un combo di almeno 12 carte, impossibile Almeno tre perfetti E riempire la barra in meno di un minuto Cioè praticamente è una cosa impossibile Ottimo Non la farò mai questa missione Quattro Tri 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 Cosa Viva 11, no, per una manchuno 4, 3 niente 9 via, andiamo avanti 8, 9 8, 7 ok, 4, 5 siamo liberati lì 8, 6, 7, 8 10, 9 la musica è angosciante 8 8 8 8 8 10 8 10 10 14 9 10 9 8 8 10 9 9 10 9 10 10 10 10 10 10 11 11 11 12 12 14 15 16 15 16 16 16 17 17 18 20 20 15 15 18 20 18 20 22 21 21 22 22 Ah no, tre perfetti, ma fa' cura Asso Donna Come cazzo faccio per la combo? Non sono solo loro, adesso continuiamo con le carte del bifero Ah no, ah Ah no, ah Ora, vento, sette Nove Sette, ma che palle Mamma mia, ma guarda lì, ma guarda lì che roba Sì, lo so, lo so, è inutile se rompere le balle Finché mi danno delle carte così merdose, non è che posso far molto Vabbè, tre Tre, due Eh, va a fare in culo Ok, due Dai, no Quattro, cinque, sei, sette Adesso ci vorrebbe un altro cinque Perché non me lo dà? Due pezzi di merda Ovviamente Eh, 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 eh Vabbè, grazie per il nove Di qui non me ne faccio assolutamente niente Dieci Quattro, cinque, tre, quattro, cinque Sì, sì Discorsi Ecco, dieci, giacca Dieci Dieci, dieci, nuove Sotto, ma siete Prego Dieci R Niente Due Due Tre Due Quattro Cinque Quattro Tre Donno Ra Donno Mi vaffanculo Sei Sette Sei Sette 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 Cinque Niente Quattro Niente Tre Niente Nove Vito Nove 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 Ok Sei Cinque Quattro Cazzo Quattro 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 6, 5, niente, donna, jack, donna, 3, asso, 2, 3, 4, 3, e vaffanculo, 7, 6, 5, 5, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 14, 15, Fami fare un perfetto Ok Ora 5 e 6 Ok Vediamo questa roba qua 5 7 9 2 3 2 3 2 3 3 4 3 4 6 6 7 7 8 8 8 9 9 10 10 10 10 10 11 11 12 12 13 14 14 15 15 15 15 16 15 15 15 18 18 19 19 Sì 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 Sì